Buongiorno ragazzi, consideriamo un cerchio di raggio 2 con centro nell'origine. Si evidenzino i punti del reticolo a coordinate intere, i pallini del nostro disegno. Si ha n il numero dei punti inclusi nel cerchio o sul bordo. Di quanto deve aumentare il raggio r del cerchio per includere al suo interno o sul bordo 2n-5 punti in tutto? Radice di 5-2, radice di 6-2, radice di 8-2, 1 o radice di 8? Vediamo insieme ragazzi la nostra proposta di soluzione. Quindi abbiamo un cerchio di raggio r uguale a 2 e è centrato nell'origine. Andiamo a fare il disegno e andiamo a contare i punti che vanno a formare il numero n, cioè il numero dei punti a coordinate intere che si trovano all'interno del cerchio o sul bordo. Questa è la nostra circonferenza e vediamo intanto sull'asse delle x l'origine il punto 1,0, il punto 2,0 e dall'altra parte il punto meno 1,0 e il punto meno 2,0. Sull'asse delle x quindi abbiamo trovato ben 5 punti. Ora saliamo. Sull'asse y abbiamo il punto 0,1 e poi il punto 1,1. Per essere sicuri che il punto 1,1, anche se si vede bene dal disegno, appartenga all'interno del cerchio, dobbiamo andare a vedere se la distanza dall'origine, che viene radice di 2, è comunque minore del nostro raggio che vale 2. Quindi possiamo contare questo punto e di conseguenza meno 1,1, meno 1, meno 1 e anche il punto 1, meno 1. Contiamo quindi in arancione altri 6 punti che andranno a formare il nostro numero n. Qui in verde vi ho segnato il punto A di coordinate 2,1 e anche il punto B di coordinate 1,2. Dal nostro disegno sembrerebbero fuori dal nostro cerchio. E anche qui per verificarlo andiamo a calcolare la distanza del punto dall'origine. Calcolare OB oppure OA è uguale, ragazzi. Vedete che le coordinate sono invertite, ma il valore assoluto delle due coordinate è comunque identico. Andiamo a calcolare quindi OB con il teorema di Pitagora. Se la distanza OB fosse minore di 2, allora il punto B apparterrebbe ai punti che andranno a formare il numero n. Dovrà essere conteggiato perché si troverebbe all'interno del cerchio. Se fosse uguale a 2 si troverebbe sul bordo. OB però è uguale a 1 OH più BH al quadrato che è 4, quindi viene radice di 5, è maggiore di 2. Quindi sia A che B si trovano esternamente al cerchio. Quindi con il pallino verde abbiamo 0 punti da contare. Di viola abbiamo il punto 0,2 e 0,2. In totale N è formato da 13 elementi. I pallini che abbiamo contato e che sono interno sul bordo della nostra circonferenza di raggio 2 sono 13. Ora voglio aumentare il raggio per riuscire ad avere al suo interno o sul bordo precisamente 2N meno 5 punti. Quindi 2 per 13 fa 26, meno 5, il risultato è 21 punti. Io vado a creare una nuova circonferenza colorata di azzurro e devo cercare di capire quando riesco a inglobare 8 e solo 8 punti. Perché da 13 a 21 ovviamente devo riuscire a inserire 8 punti. Vedete che i punti più vicini per essere inseriti nel nostro conteggio sono A e B nel primo quadrante e 2 nelle posizioni ovviamente simmetriche nel secondo, nel terzo e nel quarto quadrante. Quindi io voglio che quei punti siano contenuti nel cerchio. Io ho già visto che la distanza OB è radice di 5 e quindi devo calcolare l'aumento del raggio affinché abbia il valore radice di 5. Quindi io voglio questa lunghezza, il segmentino rosso dato dall'R segnato che è il nuovo raggio radice di 5 meno il raggio dato. Quindi l'aumento desiderato è radice di 5 meno 2. Questa c'era tra le nostre risposte. La risposta esatta infatti è la A. Spero ragazzi che sia tutto chiaro altrimenti scrivetemi. Ci vediamo domani col prossimo quesito. Vi auguro una buona serata a tutti.